Ciao, stasera mi trovo a Prado in via Ferrucci, il ristorante si chiama Sabatini, mi ha fatto una ricetta buonissima, sono i gamberoni con il salamino piccante, gamberoni alla Sabatini, andiamo a vedere come si fanno, andiamo! Grazie a tutti! Ciao, la ricetta di oggi è, gamberoni alla salamino piccante alla Sabatini. Gli ingredienti sono sale, panna da cucina, salamino piccante e un pochino di cipolla, vino bianco e prezzemolo quanto basso. Allora, questi gamberoni si preparano in padella. Si mette sulla padella, ci si aggiunge un filo d'olio, appena l'olio è caldo si aggiunge cipolla e il salamino piccante. Si lascia soffriggere per un pochino finché la cipolla è biondita. A questo punto si aggiungono i gamberoni e si sfuma con il vino bianco, un mezzo picchiere e basta. Poi, appena i gamberoni hanno preso il loro colore rosa, si aggiunge la panna e si lascia cuocere finché la panna non è ritirata. Il tutto ci vuole un cinque minuti, non di più. E il piatto è bello e pronto. Si impiatta, basta decorare con di prezzemolo e dell'olio extravergine a crudo.